Lo scorso 5 maggio il cardinale Matteo Zuppi, in qualità di gran cancelliere della Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna, ha nominato il professor Fabrizio Mandreoli, vicepreside dell'After. Docente della facoltà dal 2005, il professore insegna teologia fondamentale e sistematica insieme a storia della teologia ed è diventato docente stabile e straordinario nel 2018. Sostituisce nell'incarico il professor Massimo Cassani. A lui vanno le congratulazioni della intera comunità accademica, degli studenti, del personale della Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna e anche dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose, Santi Vitale e Agricola.